Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay di Black Ops 3 Che babaro 0-0-3 Che ancora bellissimo Su serio chi? Il primo che babaro 0-0-0-0-0-0-0 Ah un italiano Comunque useremo la VMP Si Infatti tutti quanti sanno E non so se è quella che è un recolo così grande Che si è sparato in proiettile e dopo mira sulla luna Chi è quel rinnegatore a destra? Non so mi sa che si è un DLC Che io non intendo pagare Che figo pagarlo Ma ti prendo svelo e finché Ti faccio fare Napoli-Milano in 15 minuti Si si un po' di re Devi mirare si Ok caro Guarda lì Ci sono nemici Guarda guarda Il camper che aspetta il camper È un Inception E dai gli faccio capire che sono sotto Che ho Ha un rinculo Che Un cannone Voi è come Come portarsi un cannone a mano Un verone automatico Che spara parlo di cannone automatiche Devo assolutamente buttarla sul close combat ragazzi Esatto Se no Se no cosa Ma c'è il nemico almeno Si 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 Ok come Non credere che sono Sono mica bot che si lanciano Al massacro Vati camper Non si capisce un cazzo Non è la mia allarma con cui mi trovo Ha un rinculo spuderate Sti qua stanno tanti in movimento Guardate Bisogna saltare tanto Così Così Vai Eh si però Dovrei Devo uccidere qualcuno Tipo quello Doppia kill Bene Mi è piaciuto Gli ho preso le spalle Un po' faticata la seconda Però Eh si Gli ho preso le spalle Si ma vado male a mirare È da tanto che non gioca code Si vede La prossima volta proviamo un cecchino Eh ma porca troia ma sono tutti pro gamer sti qua Alleluia muori Con i danni è messo bene ma Porca troia fa che sei com'è Ecco te Ecco te Un po' fatico Un'imeditazione è disponibile quindi sei anche a posto Perché la butti via non dura niente due o tre secondi Ah io pensavo durasse un po' di più Eh fine Vabbè cosa mi serviva tanto Eh non ti vedono le accotelle di spalle Dio se lo sa perché sto andando bene Dall'ora Eh magari non se lo aspettava Tipo guarda che faccia Eh beh Non è che sta Oh Oh non me lo aspettavo Ok ora qua me ne trovo davanti uno Cagotto Allora Non so chi ha fatto più schifo dei due Eh ma lui c'è la corazza Non so Viva danni Cosa fai Oh muori Aiuto Perché mi sono incastrato sul secchiello C'era un secchiello là Mi sono incastrato lì Dio mio buono Faccevi tipo ti trasforma via una paletta Quest'arma qui è abbastanza improponibile Cioè no Proponibile bisogna saperlo usare ecco Eh ma non è vero che si qua Sono tipo in team speak come si dice Sono tipo gli outre comandate In veterano Ma che dovrà madonna mia Ecco Ecco qua ne ho ucciso Mi sembrava la skin tipo di diva di overbox Bene Perché ne ho ucciso Ah la mia bomba è stata bene 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 Ah Non stavo facendo schifo come pensavo Come pericolo l'altra volta E qua lo trovo qualcuno E quella si si merita Va la cancellata Hai fatto di poterti Orga troi mi hai già passato l'effetto Sì ma sta qua non è un'arma dove come il mitra che faccia che fai così Devi stare stabile Mi prendrai dietro? No Quasi Bene ma non benissimo 74 81 Qualcuno sta facendo mattare un po' troppo Io non penso di essere ultimo Non sto parlando di terra Vabbè se sei penulsa Se sei anche penultimo Ti rompono dei coglioni Ok bene Più cento 76 State recuperando ma quasi 79 o 84 E anche su di livello Aiuto mi sono incastrato Chi è che mi spingeva lezzi Eh ne so io Lezzi voi È la forza di Cristo che ti spingeva Verso le sterri Porca troia perché fossero dove c'è un po' di pro gamer Cavolo eh Tipo quello Che regazzi stavolta comincio io per Sì sì La registrazione prima si è interrotta sul colpo Eh perché per il volontà del gioco Per non sfigurarci troppo Comunque stavolta Parto io e spero di farmi uno schifo di quanto ho visto Se ho visto un percento di lag E questo non è brutto Nel dubbio sparo Però è un lag a poco quello Fattuto Eh 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 No No Un minimo di schermaglia la devi fa Fare Eh ma sconstore in culo a lunga distanza Non va bene Occhio che se rasciono sei fattuto No se rasciono sono fattuti loro Ok bene Ora così se rasciono sono loro Visto Deve avere un minimo È la prima che hai fatto Allora Questo qui il camp era una meraviglia Ah Ecco chi è stato Mi sembrava strano che Io devo potenziare i mitragliattili Quelli che sta Nessù Sì Uno Due Niente Di solito ci sono i camperoni Allora È uno Due Tre Morto Morto Non sono ancora Ah sì Mi sembrava strano Di arrivare fino alla fine Che non sono ancora morto Ok Io ti consiglio sai cosa Ecco guarda Fermati qua E sta in puntamento Che loro entriano da qui Ho questo titolo Eh no Sto cazzo Sto cazzo Troia Troia Scoppia Ti prego E mi ne si fanno vedere troppo Mi parere Oh Che bravo Chi sei Minimappa Devi sempre guardare la minimappa Quasi sempre almeno Ah io sta roba che non la faccio Ti ha temprato online eh Non mi ha temprato Vabbè niente No che se dico Fallout 4 mi temprè Tipo una bestemma Per tutti gli perogamer E mi banano dal canale Divolo 13 Vabbè qui qui erano i due Qui erano Erano con le due scheletre calato E non potevo farci E mi trai a te dice mi piacerebbe poter venire No Merda E era tipo come dire Busso alla porta Posso essere ucciso Si Eh conferma infatti Era proprio Oddio Ah guarda Stano hanno recuperato a bestia A te faccio il muro Puoi ucciderlo Qui 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 Eh guarda tu ti fai circolare Facilmente prova a camperare un po' 25 a 30 però l'hanno E si io non so cambrare quindi Eh mi stai chiedendo tipo Chiedi una gallina di volare lo sai Posso non planare almeno Eh ma non volare Quindi puoi provarci almeno Qui me la sp... Se l'aspettava Se l'aspettava Non potete dire Tu non puoi dire nulla Gli altri si Mi hai goduto nulla io Ok Eh Vai vai cadi È tipo preventivo È tipo preventivo Vabbè È tipo preventivo Sensibilità BAM 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 Medi ok E devo devo riabituarmi con me stesso Ora sono già più Ma se c'è uno dietro non fai te peggiorarti che sei morto Eh infatti come sarebbe no Vabbè questo qui era un mezzo noob E io anch'io però eh Assist bene Quanto ci dà bene le chiedi Bene ma non benissimo Io ti guardare la minimappa No voglio vedere il gameplay Oh Questo è da ProGamer Quasi ProGamer ma non proprio molto applicato Perché ProGamer avrebbe anche tirato una mina Esatto Non lo so Sono tutte teorie che mi faccio a scuola Quando c'è italiano E io tanto Ma levati dal Ah beh la skin comunque è bella Dovevo farglielo sapere Se no dopo Gioco di squadra Eh vabbè Ah yeah Stato dicendo quindi relax Beh Guarda il tiro al piatello Guarda è una gara che ammazza per primo Ma la vabbè ne sono tirato sul muro la mina Mi sembrava strano quella che aveva la skin viola E la mimetizzazione ora Mimetizzati vuole che è pieno di gente qua Bene guarda a sinistra che è venuta a trarmi Non so se non mi Guarda non fai neanche tutta la piazza che Guarda 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 vedi Le tanti che li Uno l'ho ucciso Uno l'ho ucciso però La mimetizzazione è stata utile per una volta Una volta Se non durasse tre secondi Guarda se era un bot con lui ti aveva già visto Ti aveva già sparato Guarda se durasse cinque secondi Almeno vabbè dai Forse cinque secondi è un po' esagerato Questo mano ti spara Ah no ah mi ha sparato Ah l'ho ucciso Ah guarda che ti sparava con Guarda lo cazzo Ah ma io gli stavo sparando anche la mina Però mi ha fatto esplodere la mina in mano Che steronzo No Ah non era quel Oh si Non lo so Guarda quel bazooka Ma no il bazooka no Ahia Devo mettere il mirino laser Così sono più preciso in queste cazze Ah fatti una stagia Eh si inciampa su quelle Ah l'ha Non era alleato No lui quello lì tra le alleato Non era alleato Qua Qua mi aspetto una strage Vai corri corri Quasi Non ho mai visto due giocatori teamare però Stava qui mi lascia un po' Oh Non credo di aver capito Come faceva lui Ah Guarda che geniale che è stato Beh dai No è stato bravo dai Si però è stato bastardo Dai vieni su Vieni fuori dai che ti aspetto con le brecalate Vabbè dai Vedi che fa il giro adesso Ed è lui con le brecalate Vai che hai vinto praticamente vai Guarda come si è preso quella statistica Con le statistiche Ultimo Ultimo Non è possibile Vabbè dai Sì è possibile No ho visto delle esplosioni Però Con è stato Ne cazzuta non hai la gente Bene Hai vinto Bravo No non ho ancora finito Devo fare l'ultima kill Guarda come campera quello lì Oh magari beccavo qualcuno E facevo un trick assurdo Subbate Questo ho visto Top 10 Oh guarda che stanno Hanno recuperato a bestia Sì è vero E ho fatto anche Farecchio cagare È 041 Vuol dire far parecchio cagare Eh già Ok Giudizio finale su quest'arma Troppo rinculo Non mi piace Io ho bisogno del mio mitragliatore Beh è forte Se riesci Cioè se i primi tre proiettili Guarda sai cosa ci sta Ehm Cali No come si chiama Come si chiama la roba che mette avanti Il manovrio La È una roba per diminuire l'inculo ragazzi Da posto E io l'ho messa però Non fa tanto Eh cambia Infatti cambia poco Per esempio Devi togliere il fuoco rapido Se i primi tre proiettili Lo prendono L'ho ammazzato Se non riescono a prenderlo Si è fottuto Perché spara in alto la luna Sì infatti è vero Quindi vabbè Finiamo qui Saluta Insomma gli proviamo con la mia mitragliettatrice Sì ok ma devi salutare prima Sì saluto prima Ciao a tutti ragazzi